Federico Volpi, ottima prestazione e seconda vittoria consecutiva per il Cottini-Stebano-Gomme. Sì, finalmente siamo riusciti a vincere anche con me in campo, dopo cinque presenze e cinque sconfitte consecutive, finalmente è arrivata la vittoria. Una partita molto bella dal punto di vista del gioco, spettacolare, tante occasioni, che però alla fine si è conclusa con un po' di nervosismo. Sì, fortunatamente noi partiamo sempre con un po' di vantaggio, perché abbiamo, penso, il portiere più forte di tutta la Serie A, e ci ha salvato anche oggi molte occasioni e finalmente, come ho detto prima, siamo tornati alla vittoria anche in casa, che è mancavato un po' di tempo. Grazie. Grazie, complimenti.